La Giunta Sala ha portato Milano su una traiettoria di sviluppo che ha accentuato il tema delle diseguaglianze. Già prima del Covid il 10% dei milanesi si era arricchito e il 90% si è impoverito. Le scelte che sono state fatte di trasformazione di questa città di fatto hanno privilegiato degli investimenti di carattere internazionale che non hanno avuto ricaduto nella qualità della vita dei milanesi, soprattutto di quelli che vivono nelle periferie. La coalizione rosso-verde che rappresento ha dentro di sé Milano in Comune che eredita una tradizione di presenza nelle istituzioni decennale. Noi non siamo una lista costruita a tavolino in corrispondenza del turno elettorale, ma abbiamo una tradizione di presenza nelle istituzioni, nella maggioranza dal 2011 al 2016 e in opposizione dal 2016 in poi. Per cui ci presentiamo con un lavoro di coerenza e di presenza sul territorio che riproponiamo nel prossimo quinquennio. Come ho già detto più volte, voglio essere chiaro, io in un eventuale ballottaggio non darò alcuna indicazione di voto. Il nostro elettorato è un elettorato consapevole, maturo, cosciente, con forti valori antifascisti. Deciderà che cosa fare al secondo turno, ma soprattutto dico a Sala che dovrà essere lui a dover convincere i nostri elettori. Lo stadio di San Siro è la cartina tornasole di come questa giunta intende lo sviluppo della città. Lo dico senza mezzi termini, è una speculazione finanziaria che usa lo stadio come un pretesto. Dall'ottobre 2019, cioè circa due anni fa, noi avevamo già dimostrato sotto il profilo tecnico, ingegneristico e economico che lo stadio di Omeazza poteva essere perfettamente riqualificato secondo l'esigenza delle due squadre alla metà dei costi. Sa quando è stato presentato questo progetto, quando il Comune ha permesso di presentarlo? Circa un mese fa in commissione consigliare. Sono delle decisioni prese per cui l'iter amministrativo è partito, per cui chiunque andrà al governo della città dovrà forzatamente proseguire questo iter. Io credo che quanto di meno ambientale ci sia è quello di fare un'Olimpiade distribuita su due territori completamente distanti e soprattutto a Milano. In ogni caso queste Olimpiadi sono partite e mi auguro che non si facciano gli stessi errori che sono stati fatti con Expo che ha prodotto dei buchi finanziari enormi pagati con le spese delle tasche di tutti gli italiani. Gli scali ferroviari sono un'occasione persa di uno sviluppo equilibrato e ambientalmente compatibile con la città. Sono stati approvati nel 2017 e mi chiedo se quel tipo di approccio è ancora valido adesso. Credo che sia un'operazione che genera moltissimi soldi, credo sia un miliardo di utili in gioco per gli operatori finanziari e tengo a sottolineare che ai milanesi non arriva praticamente nulla. Io è dal 2015 che ancora prima nella giunta Pisapia che denunciavo che l'accordo degli scali ferroviari era un accordo che non portava nulla nelle tasche dei milanesi e se molti italiani hanno visto la faccia imbarazzata di sala davanti alle telecamere di report dove gli si chiedeva conto del fatto che 300-400 milioni di plus valenze non sono state indirizzate per il bene pubblico, sia grazie anche al nostro lavoro che abbiamo fatto in aula consigliare con Basilio Rizzo. Assolutamente è un provvedimento corretto che va mantenuto e implementato. Nel nostro programma c'è la ripresa del referendum 2011 che chiedeva l'estensione di area C alla circonvallazione, noi proponiamo che area B diventi a pagamento con tutti gli sgravi necessari per chi entra in città con i furgoni, con i camion, per un'attività commerciale, per un'attività imprenditoriale. È una direzione che molto tardivamente e molto maldestramente è stata presa da questa giunta, ma comunque è una direzione giusta. Lo spazio pubblico è uno spazio limitato e va diviso fra varie funzioni pubbliche e private. Noi crediamo che bisogna con coraggio e con forza, senza lisciare il pelo alle lobby dei commercianti e degli automobilisti, destinare lo spazio pubblico per funzioni pubbliche, che sono corsie preferenziali per i mezzi pubblici, piste ciclabili, verde e marciapiedi. Innanzitutto la lotta alla precarietà del lavoro. Il Comune di Milano è un grande datore di lavoro, è ora che si smetta di esternalizzare i servizi e che il Comune di Milano, anche tramite società in house, cominci a non dare più all'esterno, a paltare più all'esterno i servizi, ma li faccia direttamente all'interno. Ne guadagnerebbe la stabilizzazione dei precari, la qualità del lavoro, ma anche la qualità del servizio offerto. Il secondo punto è ovviamente bisogna fare di tutto per ristrutturare le 3 mila case popolari che sono ancora in attesa di ristrutturazione. Ricordo che all'inizio di questa amministrazione erano 3 mila case popolari in attesa di ristrutturazione e ancora adesso il numero è quello. Quindi tutte le risorse che derivano dagli investimenti dei privati nelle opere immobiliari che vengono fatte devono essere tutte destinate a dare al più prestato una casa a chi non ce l'ha. Un terzo punto è sicuramente quello dell'ambiente, bisogna mettere mano al regolamento edilizio in quelle parti dove si parla di superficie permeabili e impermeabili, quindi aumentare la permeabilità dei suoli, cambiare il piano del governo del territorio in direzione più ambientalmente compatibile e anche alzare di molto gli oneri di urbanizzazione, cioè le tasse che pagano gli investitori quando fanno opere nuovi palazzi, nuovi grattacieli che sono attualmente un quarto di quello che sono in Francia e un sesto di quelle che sono in Germania. Aumentassimo questi oneri avremo anche più risorse per case popolari, lavoro, ambiente, riqualificazione dello spazio pubblico.